La Regione Abruzzo chiama raccolta amministratori locali, enti, tecnici e cittadini per la seconda Assemblea regionale, i contratti di fiume in Abruzzo. L'Assemblea, dichiara l'assessore Dino Pepe, è un momento fondamentale per concertare lo stato delle iniziative in corso e di nuovi impegni per la riqualificazione ambientale delle aste fluviali. I contratti di fiume sono sempre più all'attenzione dei comuni, degli ati, delle autorità di bacino, delle province. Oggi racconteremo alcune storie preziose della nostra Regione, confrontandoci con il tavolo nazionale, soprattutto con il Presidente nazionale dei contratti di fiume, Massimo Bastiani. L'Abruzzo, nel 2014, aveva all'attivo solo tre esperienze già in atto sul territorio regionale. Oggi, a soli 12 mesi di distanza, sono attive ben 16 iniziative. Questa è la prima Regione che ha istituito una delega ai contratti di fiume, quindi un assessorato che lavora sui contratti di fiume. Dal luglio 2014 a oggi le iniziative sui contratti di fiume si sono quintuplicate. Abbiamo 16 iniziative in corso in tutta la Regione e una è anche un contratto di foce. Oggi presenteremo una bozza di delibere che porteremo all'attenzione della Giunta nelle prossime settimane, dove saranno definiti tutti i passaggi che i comuni e gli enti interessati ad attivare un contratto di fiume dovranno fare. Svilupperemo una serie di attività, un protocollo d'intesa e poi una serie di organismi che guideranno e monitoreranno i contratti di fiume nella nostra Regione. L'Assemblea regionale è inclusa negli eventi preparatori al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che quest'anno si terrà a Milano il 15 e 16 ottobre.